proviamo un saira, lo lasciamo accendere a mezz'acqua e poi lo recuperiamo abbastanza lentamente però adesso mi sta mangiando le zanzare Saira nuota molto bene, vediamo se mangia un pesce Poi voglio decisamente provare qualche lancia a galla Nuota molto molto bene Se passa un pesce deve mangiare Eccolo, è un bel pesce Sembra essere un barra O potrebbe essere anche una palamita Eccolo Sì, è una palamita Una bella palamita Una bella palamita Andiamo a tirarla su Eccolo 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 È davvero un bel pesce È davvero un bel pesce Molto bella, molto bella, un bel pesce, ho mangiato sul Saira lento, un signor pesce, ha lavata perfetta, è un pesce sui 4 kg, 4 kg secondo me tutti, molto bella, bel lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.